Era stato sospeso dei pubblici uffici e servizi per un periodo di un anno, ma il Tribunale dell'Esame dell'Aquila, chiamato nuovamente in causa dall'Avvocato Pietro Savastano, ha annullato la misura disposta dal giudice per indagini preliminari e il Tribunale di Sulmona Marta Sarnelli nei confronti del Vice Sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, finito sotto inchiesta assieme a Sindaco Giancarlo Iarussi e alla moglie, Avvocato dell'ente, per la tentata estorsione nei confronti di alcuni soggetti partenopei. Una storia che rasenta il paradosso. Il Tribunale di Sulmona aveva applicato l'obbligo di firma per i tre per aver chiesto la somma di circa 20.000 euro a quattro soggetti partenopei, uno dei quali condannato nei tre gradi di giudizio penali per aver costruito la scala di accesso alla propria abitazione direttamente sulla pubblica strada comunale senza alcun titolo di proprietà. Il Vice Sindaco in particolare, per il tramite dell'Avvocato Pietro Savastano, aveva spiegato che denuncianti, attraverso intermediazione degli altri soggetti, avevano ricercato insistentemente un incontro con l'amministrazione comunale, la parte politica. L'indagati a quel punto li hanno ricevuti nell'aula consigliare del Comune per ascoltare le loro istanze. Nel corso della riunione sono state svolte delle trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo da sottoporre al Consiglio Comunale, ma in ogni caso gli amministratori richiedevano il pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Rivisondoli per la sua difesa nei giudizi penali, ma in ogni caso gli amministratori richiedevano il pagamento delle spese processuali sostenute. Una ricostruzione che ha spinto il giudice Aquilani ad annullare la misura catelare dell'obbligo di firma per i tre indagati, disposta dal GIP Sarnelli, che aveva rigettato le stanze di revoca dei legali in serie di interrogatori di garanzia. Nel caso di Ciampaglia le due ordinanze arrivarono nel giro di due minuti, prima quella dell'esame e poi quella del giudice, dirigetto dell'istanza di revoca della misura catelare. Tuttavia il Tribunale nel pomeriggio del 6 ottobre emise nuova ordinanza attraverso la quale disponeva per il Vice Sindaco la misura interdittiva dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, misura annullata al termine dell'udienza in serie di appello proposta dall'Avvocato Savastano, che ha riportato questione e procura di Sulmona dinanzi al Tribunale dell'esame.